Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Biologiche dell'Università di Salento ha promosso quest'anno, come anche altri anni, un concorso a carattere nazionale dal titolo Ecologica Cup. Con la classe abbiamo condiviso la decisione di iscriverci e partecipare a questo concorso. È un concorso che ha come temi l'ecologia e le scienze naturali. È ovvio che adesso io passerò la parola ai veri protagonisti di questo concorso e abbiamo ottenuto un eccellente risultato classificandoci primi in questa competizione nazionale a torneo. Il concorso Ecologica Cup è una gara online nazionale che si basa su temi legati all'ecologia e all'inquinamento, all'acqua in generale. Inizialmente siamo stati divisi in piccoli gruppi e ad ogni gruppo è stata assegnata una tematica da approfondire attraverso i testi che ci sono stati forniti dall'università e agli strumenti digitali che abbiamo trovato a scuola. La fase 2 del concorso invece prevedeva degli allenamenti da affrontare che ci hanno permesso di accumulare dei punteggi per classificarci alla prova finale che abbiamo vinto pochi giorni fa. Questo concorso è stato molto stimolante perché ci ha dato la possibilità di confrontarci, di approfondire tematiche riguardanti l'ecologia quanto mai attuali e già in parte affrontate nel nostro percorso di studio. Inoltre ci ha permesso di lavorare in gruppo, di fare didattica in modo meno tradizionale, di misurarci con i nostri limiti e scoprire i nostri talenti. È stato un percorso soprattutto umano, ricco di competizione ma soprattutto di fiducia nell'altro che ha permesso di creare un gruppo di veri campioni. La vittoria per noi non rappresenta solo un premio ma anche un successo del gruppo classe. Infatti appena la nostra professoressa ci ha comunicato la posizione in classifica in cui eravamo, cioè la prima, siamo rimasti veramente a bocca aperta, non sapevamo cosa credere. Infatti c'è chi era ancora incredulo, chi si è commosso e persino chi faceva salti di gioia. Nonostante la nostra soddisfazione per ciò che abbiamo fatto, il nostro più grande ringraziamento va sicuramente alla professoressa Lepera De Luca, in quanto è lei che ci ha sostenuto e ci ha spronato a dare di più. Inoltre ringraziamo anche per averci dato questa bellissima opportunità e per aver creduto in noi sin dal primo momento. Allora la classe sarà premiata il 24 di maggio nel pomeriggio al castello di Otranto, quindi ci recheremo lì tutti quanti per ricevere questo meritato premio.